salve a tutti e ben ritrovati con cittadini di ultwand siamo qui ancora una volta con la clan war rinominata clash of clans e fatemi sapere anche se le copertine vi vi piacciono e come al solito cioè come al solito come l'altra volta è una 5 vs 5 di una squadra che è un clan di guerra m3 qui abbiamo i clan più forti sulla scena internazionale in questo caso abbiamo xmt contro mtk2 quindi ottimo i primi che si sfidano sono flying taco e cropep non nascondo che gli xmt in questo torneo sono il mio clan preferito e favorito perché banalmente 3 su 5 sono giocatori italiani che avete avuto modo di vedere spesso sul canale che sono stati anche nella nazionale con me quindi è ovvio il tifo per loro detto questo entriamo subito nel replay come al solito voi vedete a schermo sia il bracket del torneo che della partita ricordo che il bracket della partita viene aggiunto dopo il montaggio quindi io non ce l'ho sott'occhio ve lo cerco di ricordarmelo a memoria mentre scorriamo i replay detto questo abbiamo cinch contro l'izzerman una lista di cinch che si porta alla mutalite rr che finalmente è diventata un pezzo interessante perché gli è stato dato sostanzialmente il mortis engine come quella base mentre prima perdeva l'abilità di quella base aveva un'abilità tutta a sua che è già schifo abbiamo un eroe esaltato un caos orcers lord of nargol quindi non è cinch mi sono assolutamente sbagliato è guerrieri del caos normale abbiamo i night of immolation tra i modelli più belli guardate sono spettacolari poi abbiamo una front di marauder dei throwing access ai lati un troll armaturato insieme ai severed claw e un caos war rounds quindi abbiamo molta roba di zince tranne il caos sorceress di nargol quando uscirà il dlc potremo vedere anche l'eroe di nargol comunque ottimo l'eroe esaltato forse mi sarebbe piaciuto più quello di nargol è decisamente più forte di quello normale comunque una lista che intorno a questi pezzi qui fa del suo core anche perché questo qui immagino che abbia flash of bone flashy abundance che è ottima per curare le singole entities specialmente quando sono tre o quattro l'overcastate ed è fortissimo il lead zaman si porta ovviamente slan della vita con immagino hatplot e regrowth yes ovviamente se lo shredder l'eroe è bello vedere lo shredder contro la mutalith shredder supportato da una front line di scinchi schermagliatori e basta e con giavellotto per difendersi comunque dal tiro che può portare il guerriere del caos non può portare il tiro dei zinci sono ancora poi vabbè abbiamo le temple guard che workano molto bene infatti proteggono lo slan e lo shredder poi abbiamo quattro unità di mobility i caos war rounds stanno facendo il giro dalla lista vedo che non è che potranno impattarvi di tanto sanno comodi per accompagnare fuori magari gli schermagliatori si fa fa molto bene il giocatore del caos apprendersela con calma io avrei portato gli osmen normali più che i trovano access questi night of immolation possono essere molto forti bisogna vedere dove andranno cosa faranno è una lista che ha pochi pezzi quindi deve deve farli workare molto bene in sinergia quella di guerriere nel caos la lista di lizardman invece ha un paio di pezzi centrali e tutto il resto che gli ruota attorno quindi possono affrontare molto bene e forse il lizardman se la sta giocando molto bene non mandando lo shredder a morire in mezzo e questi marauder sono molto importanti per la mutalite per avere un supporto quindi il fatto che queste munizioni specialmente quelle dei javelotti vengono sprecate qui non è uno spreco così incisivo comunque gli schermagliatori avranno tanto tempo per generare qui e c'è una carica dei night of immolation che vengono subito bersagliati questo è un bel rischio è un bel rischio non avrei mandato subito le temple guard perché la mutalita ha mortis engine quindi non mi blobberei così come sta venendo fatto avrei finito di sprecare le munizioni lo shredder sta prendendo un bel po di di schiaffi scusate torniamo allora lo shredder è un po in pericolo perché comunque qui c'è tanta roba che gli da fastidio quindi io avrei forse ritardato un attimo l'engage avrei cercato di usare molto di più le punizioni di questa roba qui ottimo questo ingaggio qui sulla mobility il problema che è quella dei guerrieri del caos è tanta questi night of immolation sono una spina nel fianco tutto questo lato lizardman non sta partecipando alla battaglia quindi lo shredder secondo me deve andare su esatto sui marauder questa bounce spell qui ha fatto più danni alle temple guard che altro questa corte di scinchi è ottimo sparate sparate potrebbe sparare anche alla mutalit volendo comunque l'importante qui la mobility è stata persa la mutalit... eh scusate lo shredder deve girare e andare ad ingazzare qua anche perché qui questo temple guard hanno avuto un brutto quarto d'ora qui arriva della mobility vabbè ci sta un leggero kite io avrei mandato forse allo shredder qua la sto vedendo un po' maluccio per elizerman mancano di qualcosa che possa supportare lo shredder e soprattutto due eroi più mutalit gli fanno decisamente male e il mago della vita sicuramente gli ha già cazzato un raggrout e sono curioso che io con lo shredder sarei andato su tutta la fanteria vuoi toglierti tutti questi essenziali da qui i chaos war rounds ancora danno fastidio sulla corte di scinchi con giavellotto ottimo l'aver tirato su questa roba qui è anche vero che qui ci sono degli scinchi schermagliatori ancora insieme a una temple guard e un altro scinco schermagliatore che porterei via a questo punto in modo da tirare su tutto quello che è possibile leezerman che sono riusciti ad isolare molto bene le singole entities ma è anche vero che sono protette dai separate claw questo shredder deve andare qua questa roba qui si deve ritirare qua fortunatamente è tornata un'altra temple guard che male non fa la schermaglia è ottima sui severed claw mi è piaciuto il danno che gli hanno fatto qui la temple guard e gli scinchi vanno bene lo shredder è ancora qui a picchiarsi sta prendendo un sacco di danni ancora con la mutalite si vede già la barra della vita deve decisamente andare ad attaccare troll e marauder come anche questi qui dovrebbero immediatamente mettersi a tirare su troll probabilmente i night of immolation rompono solo le palle per il momento non hanno itp ma causano paura quindi sono andati in route qui ci sono le temple guard che hanno itp perchè sono intorno allo slan slan che ha preso un sacco di schiaffi bisogna vedere se lo slan riesce a portare fuori l'exalte diro e poi arriva lo slan e poi arriva lo shredder per il resto la partita è molto combattuta il lizardman l'ha riportata su un bel po' sti night of immolation stanno rompendo le scatole a tutta la schermaglia dei lizardman il coso il guerriero del caos ha ancora parecchia schermaglia lo shredder ha ancora 10.000 punti vita la mutalite 5.000 dello shredder è ancora molto in forma sembra che abbia perso un terzo di vita è vero ma ancora 10.000 punti la schermaglia qui non sta facendo male anche perchè questi sono pochi modelli sono 23 tanno fastidio e tutto ma guardate qua tutta la roba lizardman che è tornata qua ottimo che queste feral coldwan accompagnino fuori i troll questi l'han caricata effettivamente queste adesso potrebbero andare a caricare il barouter lo shredder penso che andrà a punire qualcos'altro questi sono presi una cura sicuro qui night of immolation non ci si può fare un tubo faranno un po' quello che gli pare lo slan qui sta rischiando deve decisamente andare in mezzo alle sue se l'ha preso l'app blot cosa no deve andare decisamente in mezzo alle alabate bravo parte un'altra cura su cosa sullo shredder no tirato fuori un altro airblood lo shredder deve andare qui a tirare giù questi marauder qua anche perchè sono gli unici supportini rimasti bello come pian pianino che quando torna tutto incomincia a sparacchiare ottimo l'importante è che gli rimanga qualcosa una carica su questa roba qui soprattutto sulla schermaglia c'è ancora un'unità di mobility intera ottimo e qui lo shredder fa sicuramente male il supporto qui incomincia a scarseggiare le temple guard sono i minici storici ma sono doppie qui abbiamo delle altre unità eh lizardman che l'ha riportata un bel po' in in bilico shredder che adesso incomincia ad avere 6.000 punti vita ne ha comunque più della muta è vero che però eh il guerriero del caos ha molti più pezzi il lord è andato in route fa benissimo di inseguirlo mi piacerebbe che bravo mandaci lo shredder lo vuoi uccidere eh rischi di perdere anche lui lo slan però mannaggia servirebbe della mobility qui perchè lo slan è a 2.000 punti vita il lord sicuramente eh il problema è che è molto veloce il lord a differenza dello slan eh quindi lo shredder viene portato indietro a difendere lo slan ma lo slan credo che ci lascerà qui è ottimo che questi ah no peccato peccato slan o ti tiri una cura o la tiri sullo sullo shredder queste schermaglie qui adesso incominciano a rompere parecchie le scatole ma i lizardman rispondono adeguatamente eh uh 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 la mutalit va in fuga la mutalit va in fuga vediamo se avrà un'unità di mobility pronta per accompagnarla fuori è anche vero che questi night of immolation sono sempre pronti a rompere le scatole ma per il resto il guerriero del calcio incomincia ad avere pochissima roba lo slan quanto ha quanto ha 980 di vita 980 di vita sta per andare in route anche all'exalte di hero i night of immolation se ne sono andati adesso devi accompagnare fuori tutta sta roba non vuoi che ritorni ottimo che i feral cold one vanno su load che rischia di tornare la mutalit è ritornata non ci si può fare nulla ma a questo punto il bel blobbettino eh dei lizardman è pronto a difendersi decentemente spara alla mutalit spara alla mutalit spara alla mutalit con tutto quello che è rimasto cioè sputi calci e bastoni e credo che anche la mutalit andrà di nuovo in route qua il load viene accompagnato fuori l'eroe dovrebbe tornare da un momento all'altro ma ormai il supporto mamma mia mamma mia mamma mia come si sono appesi a questa fune eh i giocatori xmt eh tanta roba ah no gli mtk i lizardman gli mtk ok peccato mutalit che ha fatto il devasto night of simulation l'ho fatto benino eh 7th club benino ok gli mtk l'hanno ripresa per i capelli mamma mia lo shredder e anche le due temple gunter hanno fatto il devasto belle entrambe le liste belle entrambe le liste e belle entrambe le partite quindi nel frattempo io segno eh la vittoria per eh crop app voi vedrete il il coso no scusate lo vedrete dopo adesso mentre cerco la la prossima partita ecco adesso state vedendo anche voi il risultato e adesso abbiamo i twilight contro azalero o fastora due giocatori fortissimi eh twilight con impero eh quindi sarà sicuramente una partita memorabile questa cinch si porta una un'infinità di mobility mamma mia eh tutti i i i cose che abbiamo qui come si chiamano adesso i centigore tutti i centigore che abbiamo bravo allora qua c'è un po' più di distanza quindi non rallento allora impero si porta lamber of the witches che ricordo è uno dei pochi cannoni imperiali che funziona recentemente triplo warwagon una lista con tante lance che counter molto bene tutta la mobility dei centigore di cinch karl franz mago della vita appiccicata al culo e pire knight e demigriff con la batta e una great sword che ma lei non fa per uccidere tutto qualsiasi cosa eh gli screamer sono curiosi di vedere come funzioneranno qui abbiamo l'exalted dell'hour of change del metallo le statistiche di questo piccione qui eh sono altissime eh karl franz va subito a prendersi delle free charge visto che c'è molto spazio tra il supporto con massa e le unità demigriff possono fare altrettanto i gli empire knight potrebbero fare altrettanto i cannoni subito sparare sui centigore c'è tanta roba che non costa moltissimo eh impero potrebbe vedersela male ottimo questo attacco qui potrebbe caricare anche questi per delegare ancora di più gli engage eh ovvero rendere cioè nel senso far ingaggiare più tardi la fronte all'avversaria è sempre un vantaggio per impero perché vuol dire che ha avuto più tempo per sparare qui ci sono i centigore che caricano degli empire knight che vengono portati indietro alle grids world ottimo magari prendono una carichetta da dietro ma qua si beccherà un bel panino questa unità qui l'unico problema sono i volanti fortunatamente impero non ha tiro troppo statico ha tolto il cannone su cui viene sprecata comunque una magia non ha eliminato i pezzi da quello che mi sembra il mago della vita come vedete è molto indietro e a questo punto noi abbiamo pezzi importanti che combattono insieme ad altri pezzi importanti i calfranz che supporta i demigriff i lancieri che sono comunque qui dietro a dare supporto qui dagli alti spearman che possono essere mandati su questi o questi e nel frattempo i warwagons che possono fare quello che vogliono questi centigore qui sono stati cioè questo blob qui tra virgolette di mobility va bene per impero a meno che no è vero perché il mago del metallo quindi ha final task mutation che adesso immagino verrà counterato portando via i warwagons su cui è stato fatto qui il cannone è stato perso ci sta qui i great sword possono trattare tranquillamente con il marauder qui abbiamo dei sigma songs che stanno facendo bene questi pink horror vero della fama possono fare sicuramente bene sull'expearman e sui demigriff che non hanno scudo però demigriff che non hanno scudo che immagino che ci siano già presi un regrout e che se caricano e dove caricano disintegrano sarebbe comodo avere un'unità libera come questi empire knight qui c'è un bel po' di roba ma va benissimo perché qui stanno vincendo qua abbiamo quattro unità imperiali che stanno battendo sostanzialmente sia la mobility che la fantazza di zinc zinc che è arrivato molto in profondità e cerca di sniperare il mago della vita deve stare attento comunque impero perché è vero che ha vinto la fanteria ma le sue unità chiave stanno venendo caricate da dietro cal franz ancora ha parecchi punti vita quindi può tranquillamente andare a massacrare questi marauder e questi oddio oddio il piccione qui il danno l'ha preso adesso arriveranno dei lancieri a supportare il mago arriva anche franz i tre warwagon i due warwagon perché il terzo non lo vedo più questi pink oro adesso verranno caricati giustamente gli spearman sono un incubo per i centigore ce ne sono ancora tanti queste queste mante qui possono essere un problema se esatto carl viene attirato ma c'è sempre il supporto dei wagon sono tornati i demigriff il mago della vita si è rincuorato quindi immagino che adesso potrà curare tranquillamente tra demigriff che caricano questi marauder quindi ottimo e adesso i sigma sons sono arrivati anche su gli scorpio questi pink horror della fama li prenderanno prima o poi li picchieranno a sangue la roba di zinc dalla backline di impero è stata rimossa adesso ci sono rimaste un paio di fanterie che che non impensieriscono dopo impero su quello all'upperend il doppio warwagon ha ancora anche abbastanza munizioni questi centigore si incominciano ad essere brutta tra un po' anche perché è rimasta tutta fanteria con lancia questi pink horror hanno un po' finito di rompere e adesso i warwagon incominciano a sparare all'infinito sull'exalted of change vediamo se riesce a farlo partire il final trans si non è che mi piaccia troppo su warwagon anche perché tutto il resto già ti può battere adesso non è che tu abbia chissà quanta roba il piccione è decisamente basso di vita cal franz va a supportare tutta la sua front line sempre in continuazione impero rimane bello compatto in modo da avere sempre il giusto supporto i demigriff sono quei che si riposano anche perché hanno fatto il devasto qui i warwagon di prima distrutti e a questo punto un po' di roba di zinc è vero che è ritornata abbiamo un'altra evocazione di di caos furia i demigriff vengono portati avanti proteggono i warwagon si pigliano anche un un half blood e a questo punto queste arpie qui moriranno molto malamente in mezzo ai ai cosi franz in segue le mante ROR le mante ROR che non le ho viste particolarmente impattanti vediamo se riusciano a fare qualcosa adesso il piccione riesce a fare un po' quello che gli pare molto bravo twilight con impero a non lasciarsi caitare a non farsi esporre troppo a questi pink horror e soprattutto ai due centicor che rimangono perché se avesse portato fuori la roba sarebbe stato caricato da questi disintegrato pezzettino per pezzettino le grits world non hanno scudo quindi vengono portate pian pianino dietro e vengono switchate magari con degli spearman con shield una volta che ha gestito le arpie i war wagons possono tornare a mettere pressione sui centicor come sta facendo anche il cal franz con il suo patto alla fanteria di un'alta lancia e continuare a fare molto male sull'exalted lord of change le grits world si stanno prendendo un bel po' di danni da il tiro di zinch però impero è molto compatto e adesso i wagons possono avanzare di nuovo tranquillamente sta partendo un altro final transmutation se non sbaglio che prende un botto di roba mamma mia se ti fai un altasmut questo piccino qui avrà fatto un botto di value eh si ti fanno altasmutations spettacolari però i wagons vengono tenuti su con un red growth eh un earthblood scusate e a questo punto devo stare molto attento questi hanno quasi finito le munizioni ma sono sempre comodi per mandarli a caricare magari qui franz è sempre lì ad attirare la roba i wagons sparano sparano in questo caso al piccione è ottimo tanto questo è tutto danno che si somma non va a sprecare munizioni sui sentigo le sta usando tutte sul piccione che immagino che tampon da anche in disintegrazione carica torna indietro tanto ci sono 20 sigma songs qui che romperanno un po' le scatole un wagons va in route prima di finire le sue munizioni a questo punto i demigriff credo che caricheranno a loro volta mamma mia sti poveri demigriff è assolutamente vinto per lui gli ultimi wagons si apprestano sempre a sparare al mago del metallo parte una questo credo che sia l'abilità di terzo livello di zinch vediamo se partirà qui i croma i pink ore si questa fa un bel po' di danno mamma mia mamma mia fosse arrivato un po' prima sarebbe stato un bel problema fortunatamente molto lenta qui i demigriff ormai rimangono a combattere arriva anche un supporto di lance quindi è ottimo Franz andrà a supportarli qui c'è una fanteria il punto è che questo qui anche se scende sulla fanteria si prende la carica in faccia di Carla l'ultimo l'ultimo robo di zinch ha riequilibrato un attimo ma questi sono hanno ancora tutti i modelli oppure sono bassissimi ah no sono qui eccoli ha attaccato il mago che va in route ma a questo punto arriva uno spearman e Franz Franz è ancora full vita pieno di vigore e a questo punto è a caccia del pollo qui le mante hanno già perso completamente tutto il coso questo ci sono due sigma sons qui che stanno picchiando mamma mia ma da soli sono da soli due e per il resto andiamo a vedere Franz che rincorre il polletto e a questo punto non credo che ci sia molto da fare è tornato per l'ennesima volta un altro centigore maledetto che si occupano del non far tornare le fanterie imperiali qui c'è una lancia che continua a difendere il jade wizard a questo punto Franz non può più inseguire il pollo ma va a gestire prima i centigore anche perché la fanteria fortunatamente è tornata qua giù qua c'è un'altra lancia e qui c'è un bel bombandamento probabilmente farà danno anche loro stesse eh sì però atterrano non lo so ma Franz può gestire tutto al momento questi centigore qui qua c'è una bella carica di coso mi piace come cambiano colore le lance vanno in route è Franz da solo vediamo perché il balance of power è ancora dalla parte di impero ma deve muoversi e eliminare o queste o le amante o i centigore anche perché non gli è rimasto assolutamente nulla cerca di eliminare i pink horror vediamo anche per salvare il mago forse metterci pink horror dentro da una mano più a impero che altro è vero che il mago ha pochissima vita probabilmente ancora le spell per attirare un ultimo regrowth che per quanto Karl sia pieno di vita non farebbe schifo soprattutto perché adesso è tornata ad essere leggermente stanco è arrivata una lancia che è qua giù in fondo questa qua probabilmente non tornerà questa qui nemmeno e i centigore adesso vediamo perché secondo me è un tutto per tutto Zinch continua a prendersi il suo tempo inseguendo le unità in fuga anche per ricaricare lo scudo questo permette a Franz di fare qualche danno sui pink horror bisogna vedere se perché finché hai tutte queste unità io mi metterei a cioè se so combatti con i pink horror e cicli le cariche con tutto il resto anche perché sennò Karl non lo tiri giù il mago è morto la bar del potere comunque rimane a vantaggio di Karl vediamo il fatto che sia a full vita è molto buono attiva tutti i buff e adesso credo che sia un grind di queste qui stanno arrivando le altre due lancette a supportarlo sono comodo soprattutto per il fatto che così può volare di schiaffi ne ha presi ma i centigore e le mante no i centigore sono qui le mante se ne sono andate questi appena calano di leadership dovrebbero andare in crumble in crumbling scusate in crumble è un'altra cosa quello che si mette sul gelato e Franz adesso è bello circondato cioè mando leggermente avanti i ragazzi anche perché sono cinque partite riesce a mandare tutto in route e a quel punto vince mamma mia cioè il giocatore di cinch l'ha ripreso per i capelli ma complementa di impero che ha dominato buona parte della partita in modo ottimo e molto tattico i wagons hanno fatto il devasto ho tolto uno che è stato counterato abbastanza velocemente e anche i demi griff bella bella partita qui il piccione ha fatto il delirio l'amante molto meno i centigore of cinch due bene e due male e questi pink horror il devasto quindi a questo punto andiamo a segnare l'1 a 1 e noi passiamo la terza partita sull'1 a 1 e abbiamo Korn contro Bretonnia mamma mia mamma mia mamma mia Korn ha subito il rework a Rampage ed ecco perché vedete Scarbrand in questa partita invece Bretonnia ha il limite di poter portarle solo un'unità del Graal quindi possono essere Ippogriffi Grail Knight o Grail Guardian in questo caso Bretonnia si è portata tutta una serie di fanterie belle e toste per il suo solito playstyle quindi Alabard Alabard della fama e Futsquary in realtà sono Futsquary della fama poi abbiamo tanti Pegasus Knight per prendersi probabilmente le charge lui sui minotauri e Ippogriffi fei enchantress e reliquiario tre aceri di cui due con veleno e l'esercito di Korn è molto molto minaccioso d'altro bellissimo questo colore qui standard è un po' pastrocchiato cioè sembra un po' disegnato da un bambino vabbè vediamo si piazza completamente a boxettina bisogna vedere perché se ti piazzi così a boxe ti attiva il rampage e ti va tutto madonna è un rischio è un rischio è un rischio sculcrusher vado che penetrino ed è già penetrato nella box eccolo sculcrusher che rimangono sulla panteria e scarbrand attiva il rampage attiva il rampage e tutto in questa zona qui va in rampage arriveranno i minotauri a trencare di bot i cosi qui c'è un bel bombardamento il punto è che questi pegasus verano stampiati di bot da skullcrusher e qui oddio mamma mia avete visto la giocata qui era al lato dello schermo però sostanzialmente il bombardamento della fei il giocatore di corn Ronin ha aspettato fino all'ultima tirata indietro le sue unità e l'ha fatto calare su le stesse unità bretoniane questa unità cioè questa roba qui è svolta completamente la partita questa unità qui è morta possono mandare i cani ad inseguirla fuori e questa è la barda qui possono andare su accedere e supportare il tutto skarbrand è vero che ha preso un sacco di danno così come la fei ma guardate qui la roba bretoniana che c'è deve stare attentissimo perché su tutto il resto del fronte la sua chaff questa è la barda qui non sono chaff sta prendendo pizza i cani vengono mandati boh non lo so non si capisce più una mazza qui dentro cosa sta succedendo i grifoni hanno preso parecchio danno qui dentro abbiamo tutti i pegasus knight che devono ritirarsi al più presto e corn è riuscita a rompere la linea e la box bretoniana le unità volanti bretoniane è tornato un alto minotauro l'alto minotauro è poi in mezzo che sta sicuramente stampiando di botta qualcosa arrivano i pegasus knight sul minotauro sicuramente fa male la fei è andata in route immagino che a questo punto verrà accompagnata fuori o uccisa fino a che non immagino ucciso visto che è solo 620 23 di vita morta la fei scarban manda tutto il rampage la roba gretoniana è una più bonus di carica mamma mia che massacro che massacro e vi posso garantire che questo match l'ho provato anch'io l'ho visto giocare in altri tornei e quant'altro per corn è un incubo questo match contro bretonia e quindi le giocate di corn sono state tempismo perfetto ottime decisioni strategiche come far bombardare le stesse unità di bretonia e gg veramente perché questo non era assolutamente un match facile da vincere sono rimasti solo gli ipogrifi il resto è tutto in route tutto shattered proprio infatti gg mamma mia skull crusher mi sono piaciuti tanto ma i miei notauri hanno fatto il devasto alabard di corn sono molto buone però scarban ha fatto mamma mia scarban scarban si è svegliato dal torpore la fei me royal ipogriff benché full vita hanno fatto molto bene i pegasi molto meno questi non mi hanno impressionato per niente quindi andiamo a segnare un'ulteriore vittoria per xmt sta 2 a 1 quindi può essere il match decisivo in questo momento gioca maydave contro urian lizardman contro costa dei vampiri lizardman contro costa dei vampiri lizardman che si portano ben tre salamandre tre come si chiamano queste unità orripilanti adesso non mi viene il nome costa invece che si porta una lista che credo sia abbastanza solida e vista lizardman con quelle tre salamandre un po' mi fa strembolire poi abbiamo tre salamandre tre mobility colte di scinchi da tutte le parti e ripertattili doppio quadrupla no uno due tre quattro 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 così quindi sostanzialmente vuole kaitarla a morte il punto è che costa dei vampiri si porta come al solito una bella box con un paio di alabarde tanti zombie deck and mob sul fronte i gunner e bomb bombers che secondo me non faranno molto qui perché non c'è più fanteria che ingazza mentre gli handguns possono fare molto bene poi abbiamo i deck gunners e i deck gunners della fama dietro protetti da 2 deck guard con un po' l'arma le lampre che proteggono il cannoncino mamma mia mamma mia questi deck gunners hanno sciolto la corte di shinky qui abbiamo i chameleon stalkers vediamo su cosa spareranno immagino su questa deck card un po' l'arma sono ancora nascosti sono curioso di vedere perché un errore che fanno spesso i giocatori è di non guardarsi dietro è capitato anche a me in tornei di alto livello e quant'altro non fare questa cosa qui vediamo su cosa sparano sulle deck card non gli hanno fatto un tubo non gli hanno fatto veramente un tubo anche qui sono stati counterati adesso arriveranno le lampreys che li mazzulleranno il cannone sta facendo pagare uno scotto non indifferente la schermaglia sta gestendo in maniera decorosa la front line è ottimo una volta eliminati tutti questi zombie qui queste unità qua di mobility e i riperdati le possono andare ad inficciare il tiro punto cederà prima la front line o la roba di lizard man al momento sembra che l'assalto nella back line dei chameleon tolcaston sia andato benissimo qui stanno tenendo un po' impegnate le lampreys qui uno scinco una cotta di scinchi sta entrando nella back line questi scinchi qua adesso che hanno performato molto bene lanciando il coso subiranno il tiro dei bombers a loro volta è un peccato che si siano fermati qua parte una flamestorm che fa un danno devastante ai bombers e i riperdati le incominciano ad entrare in campo qui parte un burning head che prende due unità in teoria no gira veramente di merda e e va in culo alla luna prende questi bombers qui sfiorandoli e poi va su vado madonna che giro pessimo parte un banishment qui abbiamo i riperdattili che stanno cercando di uccidere i death gunners al punto che c'è un alabadda di death guard mamma mia il cannone qui ancora è disturbato che fa daniele salamanda che invece per il resto stanno performando bene bisogna vedere su cosa spara adesso che adesso possono sparare molto bene su questi iperdattili qui ci stanno per abbandonare il front c'è parecchia roba leezermen ma sta scendendo parecchio soprattutto perché ci sono ancora le lampreys e alabadda quindi deve incominciare a gestire le alabadda per bene soprattutto quelle della death guard e togliersi dalle palle questi death gunners ci stanno mettendo una pezza le salamandre in questo momento qui arrivano iperdattili che hanno stroncato di botte in cariche dei gunners ci sono le lampre e il servente quindi adesso se ne deve andare le alabadda qui sono un bel problema vengono subito bersagliate da bello come si tenga comunque la mobility decentemente questi chameleon stalkers alla fine magari hanno fatto no no e non andò più a controllare che abbiano fatto bene un altro bello flamestorm finalmente forse ci leviamo queste dalle scatole la death guard che attacca gli scinchetti qui questi handguns se ne stanno andando c'è ancora parecchia roba l'inzerman è bello come dia in realtà il contrario ma a me sembra che l'inzerman abbia tutti gli strumenti per fare quello che deve fare è vero che rimangono ancora due death guard polyarm con le lampre base full vita sopra anzi 3 mamma mia però a questo punto si deve un attimino blobbare lo il non morto questa tappicata può andare veramente a fare un gulo e bisogna vedere se riuscirà ad incidere perché in realtà l'unico bust di danno al momento mi sembra che siano un paio di salamandri che sono tornate buono vediamo se riuscirà il cannone se n'è andato a ramengo forse finalmente una volta che il cannone se n'è andato le salamandri poi possono caiare a morte tutto quello che è rimasto soprattutto sparare sulle alabande lo slam che si porta il mondo appresso qui sono rimaste solo le lampre credo cioè l'importante è uccidere questo cannone qua parte uno spirit litio sui ripetattili questa mobility qui sta attaccando immagino il vampire fleet admiral si che non è antilaggio non è un ottilus bisogna vedere cosa farà il cannone è ancora lì che spara cristo santo queste non sono più un problema questa è la parte qui queste sono state gestite ottimo queste potrebbero essere un po' più un problema ma è ottimo che siano lontane dalle lampre rispetto al resto è vero che c'è ancora una labattina zombie che dovrebbe andare a difendere le lampre il cannone credo che abbia perso tutti i modelli finalmente no 4 di 4 ancora qui ma che cosa sta sparando no Emily Emily perché finalmente sono arrivati i Chameleon Stalkers sopra fastidiosissimi questi Chameleon Stalkers Lizerman ha tutta la mappa bisogna vedere solo una salamandrina gli è rimasta vediamo se basterà vediamo se basterà vediamo se basterà con le lampreys mi sa di no perché sta per arrivare uno Spirit Leach no un Biuna proprio che le cancella e se senza le salamandre io la vedo veramente veramente ostica lo slan qui è in mezzo alle alabalte bastava una o due salamandre c'è una salamandre qua? no e niente niente qui c'è una bella flamestorm che si porta via le alabarde definitivamente a questo punto a questo punto bisogna solo trovare il modo di gestire le lampre di Servancio con cosa? boo guarda lo Spirit Leach su lo slan le alabarde qui sono molte ok e adesso boh boh bella domanda bella domanda su cosa andare io ucciderei forse il Vampire Flight lo slan deve stare lontano dalle lampreys perché se gli spara è il problema che tutto il resto della roba ci mette una vita da arrivare e non è neanche così incisiva non c'è niente che faccia un bel po' di danno alle lampreys sono pochi modelli e l'altro è un lord le magie che si è portato il mago del fuoco non fanno a gran caso e lui c'è ancora Spirit Leach che casterà all'infinito sulla testa dello slan bello il lo scudo la statuita gli è rimasta? no immagino l'abbia usata sul tiro il punto è che boh a questo punto credo che sia un lo slan forse dovrebbe picchiare l'ammiraglio ma è proprio in mezzo alle lampreys peccato credo che sia lentamente uno sterminio di tutto da parte delle lampreys bella la tempestina che fa un po' di danno e diminuisce la la rigenerazione la segue proprio bene ma con l'ennesimo Spirit Leach non c'è nulla da fare le lampreys come al solito sono un palo in quel posto credo che se vi sediate su uno stuzzicadente sia più simpatico che averci a che fare eh lista che in realtà stava venendo gestita molto bene se questo cannone non avesse continuato a sparare in melee bombardato qualsiasi cosa ma guarda il fuoco ha fatto il panico e il delirio le salamande molto poco sono state gestite subito questi boh ma fanno un po' schifo la mobility non è male gli scinchi col giavellotto hanno fatto quello che dovevano fare quindi direi che ci sia portati sul 2 a 2 mannaggia quindi si gioca tutta nella nella nell'ultima battaglia mamma mia ultima battaglia che è un beastman contro elfio scuri elfio scuri che si portano una lista bella ignorante una bella rottura di balle per beastman il tiro a piedi forse è quello che mi piace un po' di meno ma bisogna vedere come schiererà infatti immaginavo che schierassi in quel modo eh vabbè micro intensive no sto scazzando sono giocatori altissimo livello quindi se questo è il modo in cui è schierato un motivo c'è ehm Blackheart Corsair ci può stare Tadano decentemente anche se non sbaglio anche contro i Canticore Darkshard Lidera Malus bei pezzi rompiscatole Flock of Doom da castare in continuazione ok poi c'è la 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 sireda che male non fa quindi la lista dei Darkheart li abbiamo vista qua abbiamo Khadrak vi sto facendo vedere cosa si è portato e qua immagino un traitor che può fare molto male prendendo parecchi pezzi la fronte sono Angus Spearman con lancia dietro abbiamo tanti Centigore trovi access un paio di Centigore normali e due di Zinch e il Jabba Slide ok ok carino tanta mobility pochissima fanteria eh ah è interessante da vedere andiamo avanti Jabba Slide su build così posso fare veramente il panico i DS sono portati un botto i single entities tra l'altro tutte fastidiose questa è bella antipatica vediamo se viene caricata dal porco spino mi sa di si però questa sia da considerare che è antilagio eh si gira ti da due pizze fatto bene ad andarsene prima di essere sparato a morte qui siete fuori qualcuno gli può dire che sono fuori range non è vero voi fermi non potete sparare vabbè si allarga molto bene prima di entrare nel nel coso qualche perdita la deve subire per forza per la medusa questi cagnolini qui non ho capito perché si siano i cani fanno costantemente sta roba qui tutti belli in fila indiana qui è un bel po' di di fuoco sul Jabba Slide che a me fa così tenerezza questa unità cioè se usate in certe maniere forti ma non lo so madonna mia cosa sono fai raggi laser sembra star wars il suono che spara la medusa vabbè comunque sta decisamente facendo un po' di danno eh sul fronte non faranno troppo questi angor contro i Blackguard blackguard è vero che i lanciatori di hash possono dargli una mano Jabba Slide se ne va subito dall'idra mamma mia questi Blackguard terrorizzati madonna guardate il Jabba Slide cosa sta facendo sulla front line guardate guardate madonna ma cosa sta facendo sto Jabba Slide ma si scusate adesso vi faccio vedere anche il resto qui è crollato un Blackguard quindi adesso i Beastmen entrano tutti lì dentro qui è stato assottigliato come anche qui arrivano sto Jabba Slide sta facendo il panico guardate ha preso un sacco di schiaffi ma sta facendo il delirio ma poi scusami come fa adesso se ne deve andare via quanto ha di charge bonus? 30 ma fai i buchi per terra guardate boom madonna madonna che massa questo Jabba Slide è uomo partita e adesso i Dark Elf devono combattere corpo a corpo con tutto che gli è andato in route qui parte un Flock of Doom credo si infatti è sui cosi Scream della Medusa e adesso Medusa più Ida credo che possano fare del male al Jabba Slide Jabba Slide però guardate come la roba isolata di Dark Elf viene gestita molto bene dalla Mobility a questo punto i Beastman possono permettersi di andare a prendere anche unità che sono appena tornate queste qui sono state disintegrate mentre erano in fuga qui c'è un ultimo baluardo di resistenza anche dovuto al fatto che le telebronine sono molto forti il Jabba Slide dopo aver fatto i Miracoli ha preso un po' di schiaffi contro la Lidra e Malus il punto è che adesso come gestire? bisogna gestire sicuramente quella medusa stronza perché continua a sparare e bisogna vedere le throwing access su cosa verranno usate perchè i Sentigore hanno ancora tutte le loro munizioni accompagnano fuori tutto anche perché siamo molto vicini al bordo mappa qui si può tentare di uccidere la strega e le throwing access possono venire qui ecco Lidra deve stare molto vicino a Malus Malus che è ancora full vita e non si è trasformato fatto un bel Traitor Keen bello questo Traitor Keen farà un bel po' di danno guardate Lidra che comunque ha rigenerazione qui abbiamo un bel commitment sulla medusa la vogliamo madonna qui queste asce hanno fatto più fuoco amico che altro che unità di perda le asce cioè servono il problema è che fa schifo il tipo di proiettile guardate qui il danno guardate qui il danno fa più danno ai Sentigore che alla medusa Lidra qui sta venendo caricata da tutto e di più che prende le toto sul culetto è poppato sicuramente la cura perché guardate è tornato su di vita qui un bell'urlo della medusa a questo punto la Lidra stava venendo gestita con le asce da lancio ottimo la mag è stata mandata in route viene accompagnata fuori dai Chaos Warhound e qui adesso i lanciatori di asce sono nel loro mondo cioè hanno comunque AP quindi fanno un danno assurdo anche a questa roba qui qui questa Death Spirit da mandare via non sarebbe male ma Lus si trasforma anche per evitare l'Army Loss vediamo quanto ci metterà si è trasformato? no ma cosa è stato? una fake trasformazione deve stare attento a 72 di leadership adesso ci può stare la roba dei Beastmen continua a tornare qui adesso la Lidra sta per schiattare il carretto qui continua ad incisare le fanterie dei Dark Elf è rimasto solo Malus che va trasformato probabilmente ha usato quello poi un'altra abilità quindi gliel'ha bloccato sono comunque una lancetta qui guardate qui il lanciatore di asce sono ancora qui che mietono vittime uuuuh trasformazione trattiva per Malus e che compromette la partita Beastmen ha giocato molto bene questo Jabez Light ha fatto i numeri da circo proprio ha sfondato la box anche sul fronte contro il Blackhark 6 ottimo ha gestito molto bene i Centicor ah la fronte ma Malus peccato non si è stato trasformato in tempo l'Hydra buona ha fatto il suo la sirena decisamente good le Dark Shard non credo che abbiano avuto il tempo di sparare esatto mentre le lanci hanno fatto decisamente meglio specialmente le Leberon High che sono molto molto forti quindi sostanzialmente 3 a 2 per XMT passano il turno state vedendo adesso il riassunto e vedrete anche il bracket prima che finisca il video detto questo come al solito io vi invito a lasciare un mi piace un commento per aiutare il video con l'algoritmo e iscrivervi al canale perché siamo quasi ai 500 dai è il primo traguardo tra virgolette importante grosso e mi piacerebbe raggiungerlo tutti assieme specialmente prima dell'uscita del DLC detto questo io vi invito a recuperarvi tutti i DLC di informazione che ho fatto su Nargon credo che questo video uscirà lunedì quindi sono della settimana scorsa e a rimanere sintonizzati perché da domani se questo video esce lunedì credo proprio cioè nel senso abbiamo la conferma che uscirà altra ciccia per impero quindi iscrivetevi al canale perché domani martedì e mercoledì o forse solo tutto un martedì o giovedì comunque intorno al centro della settimana martedì qualcosa esce sicuro parleremo di impero e di Elspeth detto questo io vi saluto e noi ci vediamo al prossimo video questa è una serie che avrà credo 10 episodi e arrivederci